Amici di Ulmilano, vediamo come sono andate le sfide di questa sera, in particolare la sfida di cartello fra Olympia, Goz e Vardinazzo e la sfida fra Invino Veritas e Titan, con Invino Veritas alla ricerca di una vittoria per rimanere aggrappati alla corsa playoff mentre vedremo come va lo scontro salvezza fra Cugini di Zampagna e Scrotone. Un match interessante, secondo me oggi sarà la prova per vedere se realmente valiamo oppure ci stiamo giocando un campionato a Zulpa. Noi siamo pronti per giocare e vedremo cosa uscirà fuori a fine partita. Noi siamo pronti per la famiglia Noi siamo pronti per farvi If you wanna lose your mind Come and get it Let's play, oh come and get it Let's play, oh come and get it Let's play, oh come and get it Difficile, siamo andati sotto subito 1-0 Poi sono riuscito a pareggiare nel secondo tempo E poi hanno fatto un bel gol Peccato perché c'eravamo C'eravamo, è un dispiacere perché ci hanno superato Però andiamo a vincere la prossima Oggi tre punti importantissimi Dobbiamo vincere per forza L'unica per arrivare a puntare al quarto post Giochiamo come sappiamo e possiamo vincerla Abbiamo giocato solo un'altra volta Purtroppo un evento sfortunato Se hai rotto il dito nostro portiere abbiamo preso 5 gol Ma questa volta ci rifaremo sicuri All that's left is a window to my soul Come and get it Let's play, oh come and get it Let's play, oh come and get it Let's play, oh come and get it Molto bella Io personalmente non giocavo due partite Quindi sono rientrato abbastanza bene La squadra in forma e si vede Quindi niente, noi puntiamo in alto Come and get it Sono a scontro salvezza e ci teniamo Alla nostra portata, siamo carichi Vogliamo portare a casa questi tre punti una delle nostre poche vittorie e daremo tutti Pensavo di poter fare il risultato oggi comunque abbiamo un paio di giocatori che sono tornati da infortunio ci sentiamo abbastanza in forma chiaramente la stagione non è andata da grande fino adesso ma siamo in campo convinti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti